La tollese rinfrancata dalla fermazione esterna con l'elicese va a caccia del primo successo casalingo della stagione. I biancorossi di mister Pasquini hanno un compito particolarmente impegnativo davanti al pubblico amico, ricevendo infatti la corazzata San Salvo che ha vissuto alcune vicissitudini tecniche in avvio ma che sta mantenendo le aspettative degli addetti lavori con sei punti in due gare di campionato e con la vetta condivisa insieme a Ortona e Scafapasso Cordone. Contrariamente alle nostre abitudini che di solito raccontano l'andamento della gara partendo dall'inizio, stavolta dobbiamo spoilerare il finale, visto che quanto andremo a mostrarvi non sarà con ogni probabilità destinato a rimanere negli archivi. Se infatti il successo sul campo è andato alla squadra ospite, quella che conta ai fini della classifica permetterà al contrario di far sorridere la tollese che ha immediatamente inoltrato il reclamo per una violazione sull'utilizzo dei fuori quote in campo dovuta ad una ingenuità su una sostituzione effettuata dai San Salvese al minuto 24 della ripresa. Quando ad uscire dal campo è stato Fasca classe 2002 sostituito da Sarchione classe 2001. Per qualche minuto i biancazzurri non hanno schierato come da regolamento alcun 2002 in campo, dando quindi la possibilità ai tollesi di presentare il reclamo quasi sicuramente accolto che darà dunque la vittoria a tavolino ai biancorossi di casa. La cronaca sul campo parla subito biancazzurro e il quattordicesimo infatti quando Molino cerca un pertugio per la battuta da limite fuori misura, passano due minuti e il signor Tropiani della sezione di Bari assegna un calcio di rigore alla squadra ospite ravvisando l'intervento falloso di Cicolini ai danni di Marinelli. Dagli 11 metri lo stesso Marinelli va alla battuta con la sfera che si stampa sul palo e carambola poi sul portiere di casa. L'azione prosegue ma i sansalvesi non riescono a concretizzare l'occasione propizia. Se il sansalvo non sfrutta l'occasione, sull'altro fronte arriva un penalti anche per i padroni di casa. La massima punizione è sanzionata in questo caso per l'atterramento in area di Delbello causato da Frasca. Capitano Luongo protesta eccessivamente e guadagna, si fa per dire, il cartellino giallo. In questo frangente la battuta di Digirolamo va a segno e per la tollese si certifica il vantaggio. La reazione dei Biancazzurri è immediata anche se il providenziale salvataggio di Cinquino a ridosso della linea di porta impedisce a Marinelli di far male con un perfido pallonetto che scavalca l'estremo di casa. Sull'altro versante il piatto di Ferri dal vertice d'area non incute particolari tremori a cattafesta. Per il somologo tollese Ciccotelli arriva invece il primo dispiacere di giornata. È la mezz'ora esatta infatti quando Coffi semina scompiglio dalla fascia sinistra, si accentra, resiste agli interventi dei difensori avversari e riesce a servire l'appostato Molino che da posizione invidiabile va a infilare la sfera in fondo al sacco per la rete che certifica il pareggio della truppa ospite. Il San Salvo continua a stazionare in area a tollese e due minuti dopo perfezione il sorpasso con lo stesso Molino, ispirato ancora una volta dal debordante Coffi imprendibile sulla fascia. Non è finita qui visto che al quarantesimo il San Salvo prende in largo e Coffi a lanciare Molino che cerca di filare Ciccotelli in uscita. Il disperato rientro di Cianci impedisce alla sfera di superare la fatidica linea bianca ma questa termina sui piedi di D'Alessandro, l'esto a rimettere al centro per lo stesso Molino che gonfia la rete con un perfido colpo di tacco. Per il numero 11 Biancazzurro si tratta della sua tripletta di giornata ma le emozioni non sono affatto terminate. La gara si riapre nella parte declinante del primo atto e il quarantatresimo infatti quando Capitan Luongo arriva in chiusura su Del Bello. Per il direttore di gara l'intervento è irregolare e lo sanziona con il terzo penalty di giornata. In questo caso Cattafesta neutralizza il tiro di Di Girolamo ma la sfera rimane in gioco e Orta appostato sul secondo palo si tuffa con tempismo e va a ridurre le distanze. La tollese ci crede e prima dell'intervallo sfiora il pareggio con lo stesso Orta che spara a lato a tu per tu con Cattafesta. Al riavvio dei giochi arriva una brutta tegola per la squadra ospite costretta ad amministrare il prezioso vantaggio con un uomo in meno a causa del rosso per somma di ammunizioni rimediato da Luongo dopo appena tre giri di lancette dal riavvio in seguito al fallo sullo sgusciante Del Bello. Sul piazzato conseguente di Di Girolamo Orta stacca ma trova pronto Cattafesta che abbranca la sfera in tutta tranquillità. Nonostante il perdurare dell'inferiorità numerica il Sansalvo realizza il poker con D'Alessandro lesto a sgusciare tra le maglie difensive e biancorosse sull'invitante pennellata di avvantaggiato e a bruciare sul tempo il portiere di casa uscito disperatamente fuori dai pali per arginare ma senza riuscirvi il numero 7 avversario. L'equilibrio numerico in campo si ristabilisce al ventiduesimo quando è il tollese ferri a ricevere il secondo giallo di giornata e il rosso conseguente che lo manda alla doccia anticipata. La tollese non molla la presa e al ventitresimo riduce nuovamente le distanze con la zampata di Del Bello pronto ad intervenire sul traversone a centro area di Orta in versione assistman. Rinfrancata dalla segnatura la truppa di mister Pasquini insiste in zona d'attacco e crea una nuova insidia con una mischia in area sugli sviluppi di un corner sul quale Orta e Di Girolamo vengono murati dalla retroguardia san salvese. I tollesi continuano gli assalti nei minuti di recupero dapprima con il neo entrato Goi che spedisce clamorosamente al lato da ottima posizione vanificando l'invitante pennellata dalla sinistra di Del Bello e infine con Cattafesta che si accartoccia e depotenzia la temibile stoccata della squadra di casa dal vertice d'area. Di lì a poco arriverà il triplice fischio che sancirà la vittoria del San Salvo inficiata con ogni probabilità dalla giustizia sportiva che assegnerà la vittoria a tavolino alla squadra di casa. Siamo qui con il mister Pasquini. Mister, secondo lei un risultato giusto oppure meritavate qualcosina in più? Ma risultato giusto no, abbiamo fatto qualche grosso errore purtroppo abbiamo praticamente regalato almeno due gol, il terzo e il quarto, almeno un pareggio. Credo che era il risultato più giusto, secondo tempo abbiamo giocato a una porta sola purtroppo non siamo riusciti a metterla dentro, a differenza loro. La prossima? La prossima andremo fuori casa con la Casolana, un'altra partita difficile, una squadra comunque abituata a questo campionato, noi un bel po' che manchiamo dalla promozione. Adesso cerchiamo di risettare questo che è successo, al cospetto di una grande squadra ci potrebbe anche stare la sconfitta, adesso cercheremo di andarci a riprendere i punti domenica a caso. Allora siamo qui con il mister Antonaci. Mister, dopo un buon primo tempo svolto da voi, il secondo forse avete avuto qualche problema e loro hanno rischiato di recuperare anche. Sì, abbiamo fatto un buon primo tempo, poi abbiamo perso Vito e Marinelli il primo tempo e niente, poi sono saltati un po' pure gli equilibri, poi abbiamo preso due rigori un po' ingenui da parte nostra, si sapeva che la Tollesi era una buona squadra, venivamo qua e avremmo giocato una partita difficile e così è stato. Certo abbiamo fatto tre errori sui tre gol loro, ci può stare, ma bisogna lavorare ancora.